Amici, eccomi di nuovo con voi. In assoluto vi ringrazio per la risposta veramente incredibile che ho avuto con quella mia diretta di pochi minuti ieri pomeriggio alle 17. Allora, facciamo il punto della situazione. Oggi c'è stato l'Eurogruppo, le prime notizie sono che sia l'Olanda che la Germania hanno detto no agli Eurobond, quindi la condivisione di strumenti comuni e si sono invece orientati sull'attivazione del MES. Sia chiaro, sono sulla linea dura, lo sapevamo, continuano e insistano. Vi ricordo l'Olanda è quel paese che praticamente con quel sistema fiscale che ha nei nostri confronti non è estremamente gentile. Vi ricordo che insieme a Lussemburgo riescono a eludere e evadere per mille miliardi l'anno proprio perché hanno una fiscalità a danno nello stesso mercato unico, questo è il vero problema, ma nessuno ne dice niente, anzi sono loro che non vogliono avere una fiscalità uguale proprio perché hanno dei vantaggi incredibili. Loro adesso ci vengono a dire che per noi ci vuole il MES, si sappia questo, ma d'altronde lo sappiamo benissimo tutti quanti. Allora, oggi c'è stata anche una riunione molto ristretta, vista le circostanze purtroppo, è ovvio, della Commissione Econ del Parlamento Europeo. Il mio brevissimo collega Valentino Grant ha formulato delle domande direttamente al Ministro dell'Economia Roberto Qualtieri, ha fatto le domande e ha dato delle risposte. Abbiamo pubblicato, purtroppo non è possibile il video, ma vi garantisco che è la fedelissima riproduzione di ciò che è stato chiesto e ciò che è stato risposto su scenarieconomici.it. Quindi se vi collegate, naturalmente è gratis, lo sapete benissimo, su scenari economici ci saranno sia le domande fatte dal mio collega Valentino Grant che le risposte del Ministro Qualtieri. Poi giudicherete voi. Si attiverà, non si attiverà il Governo italiano? Avrà la capacità, la forza, l'autorevolezza per dire no all'attivazione del MES? Questo noi non lo sappiamo. Una cosa è certa, che in Europa prevale ancora questa linea in cui bisogna attivare dei meccanismi con delle condizionalità. Cioè noi praticamente dovremmo, secondo loro, chiedere all'attivazione del MES avere aiuti per una cifra intorno ai 35-36 miliardi di cui 14 li abbiamo dati noi e dobbiamo sottoscrivere delle condizionalità tremende. Cioè praticamente, in estrema sintesi, ci stanno chiedendo di svendere questo Paese per 36 miliardi. Io francamente pensavo che valesse qualche cosa di più. Sta a voi giudicare. Vi ringrazio.